Siamo ambientati un po', il posto è bello, l'impianto è molto bello, molto grande, abbastanza moderno, il lounge proprio a vista privilegiata di quello che succede, facciamo un po' di attivazione, un po' di battute e ricezione per abituarci un po' alle luci, poco altro, magari qualche attacco per chi vuole attaccare, ma niente, solo un po' di attivazione per riprendere un po' di tono muscolare, di articolabilità, niente di particolare e un po' di confidenza con l'impianto per quello che riguarda i riferimenti.